Cari amici della danza, un saluto a tutti voi. Questo video nasce dalla consapevolezza di quanto sia importante potenziare e tutelare il fisico di un danzatore. Pertanto si propongono una serie di esercizi a terra e in piedi con e senza attrezzi e alla fine una sbarra al fine di sviluppare un buon piazzamento, rinforzare la muscolatura profonda, imparare a utilizzare la muscolatura che effettivamente serve a un danzatore, incrementare l'elasticità e l'equilibrio. Tutto ciò si tramuterà in un miglioramento della tecnica, in un incremento della sicurezza fisica e in un senso maggiore della scena e in un miglior dominio dello spazio. Potete fare questo allenamento come affiancamento alle vostre lezioni quotidiane oppure nei periodi di inattività o quando non è possibile caricare il proprio corpo. Ricordatevi sempre che il movimento in sé non significa nulla, potrete ripetere mille volte un esercizio senza ottenere nessun beneficio, mentre è importante eseguire gli esercizi con consapevolezza, concentrazione ed estremo rigore. A questo punto non mi resta che augurarvi buono studio e buon lavoro.